Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Le anticipazioni di Terra Amara che andremo a scoprire oggi riguardano le puntate che andranno in onda sabato 27 e domenica 28 maggio, episodi ricchi di colpi di scena e di emozioni che vi terranno attaccati al video. Ma prima di iniziare lasciate un bel like al video e iscrivetevi al canale ricordando che per noi è molto importante e voi così potrete essere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita. Dopo aver ricevuto il pacco contenente il video che gli è stato inviato da Mujigan in forma anonima, Demir insieme a sua madre finalmente possono guardare la pellicola con il nuovo proiettore che stavano aspettando che gli venisse finalmente recapitato. Ciò accade giusto nel giorno della festa di fidanzamento di Gulten e Cetin. Una volta fatto partire il proiettore ciò che Demir vede è per lui sconvolgente. Il video ritrae Ilmaz insieme a sua moglie in atteggiamenti intimi e lo Yaman non ci vede più dalla rabbia. Inoltre alla fine Demir capisce anche chi gli ha mandato quel video perché Mujigan ha registrato la sua voce pronunciando di essere colpevole che Demir la reputa una pazza ma che dopo questa prova non può più pensarlo. La matriarca però pensa di falcarmare suo figlio in quanto potrebbe essere una cosa da nulla esortandolo prima a capire come mai si siano visti. Ma ciò che pensa Unkar Demir non lo prende proprio in considerazione. Infatti lo Yaman perdendo le staffe si precipita a prendere la sua arma senza esitare intima Zulela che nel frattempo stava chiacchierando con la cugina di Demir e con la moglie di Yatip. Praticamente la obbliga ad uscire dalla villa e a salire in macchina con lui. Nessuno di loro ha riuscito a fermarlo e a placare la sua ira neanche sua madre Unkar che vedendo suo figlio così alterato gli aveva urlato di fermarsi perché in quell'occasione non sarebbe di certo stata dalla sua di parte. Tutti invece sono rimasti sconcertati e preoccupati sulle possibili e tragiche conseguenze di quello che sta succedendo ma si sapeva che prima o poi Demir sarebbe scoppiato e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La dottoressa Mujigan invece che ha assistito a tutto da lontano inizia a provare un po' di senso di colpa perché si resa conto di aver messo in pericolo la vita di Zuleila. In questa situazione Mujigan decide di confessare a sua zia Beyice l'accaduto mentre la matriarca si rivolge a Fekeli per chiedere il suo appoggio dal momento che è l'unica persona in cui pone la massima fiducia. Sermin invece curiosa di sapere nel frattempo è riuscita ad entrare nell'ufficio di Demir per guardare il video e apprendere il motivo scatenante della rabbia dello Yaman. Poco dopo Beyice raggiunge la nipote la quale racconta dell'incontro tra Zuleila e Ilmaz e sottolinea di sostenere che i due hanno organizzato una fuga mettendo in mezzo anche il suo figlio Kerem e quindi accusandoli che hanno anche intenzione di portarglielo via. Ecco perché ha deciso di filmarli e di mandare la prova della loro infedeltà al signor Demir, Beyice però cerca di farla riflettere sulle ripercussioni che potrebbe avere il suo comportamento nei confronti della vita di Zuleila e anche sulla sua stessa reputazione poiché così alimenta solo l'idea della sua pazzia e anche per la reputazione di Demir che è stato tradito e per quella di Ilmaz che ha sempre vissuto una doppia vita con un'altra donna. Dopo aver parlato un attimo con sua zia e dopo averle detto ciò a cui va incontro anche suo marito Mujigan inizia ad avere molta paura temendo che Demir possa ucciderlo accecato dalla gelosia. Dall'altra parte invece Unkar e Fekeli si sono diretti verso il bosco alla ricerca di Zuleila e Demir e una volta scesi dalla macchina per proseguire a piedi per addentrarsi nel bosco Unkar si mette a gridare a chiamare a gran voce il nome di suo figlio Demir che nel frattempo però punta la pistola contro sua moglie accusandola di essere stata infedele verso di lui e pentendosi dell'amore che le ha dato fino ad ora. Zuleila si giustifica facendo presente a Demir che sì si sono visti solo per parlare e capire se era stato davvero lui l'uccisore di Erkomet perché lei era molto preoccupata. Demir quando sente sua moglie che dice di essersi preoccupata per Ilmaz perde ancora di più le staffe, perde totalmente il controllo di sé e Zuleila vedendosi la morte in faccia riesce a dire le sue ultime parole a Demir. Zuleila gli dice di prendersi cura di Leila ma anche di Adnan pregandolo di non metterlo da parte anche se tante volte non desidera prendersene cura può portarlo dal padre. Demir a questo punto le ha intima a non dire più nulla e urlando lo Yaman afferma che Adnan è suo figlio e che lui è un uomo fedele e non come lei e non abbandonerà mai Adnan. La ragazza ci riprova e dice a Demir di non aver fatto davvero nulla con malizia ma lo Yaman continua a tenerle la pistola puntata. Pochi secondi dopo nel silenzio del bosco si sente un botto enorme. Unkar a quel punto teme il peggio. Si porta le mani sul viso e comincia a chiamare ripetutamente Zuleila. Quando poi sente un secondo sparo a quel punto la matriarca è quasi convinta che suo figlio abbia fatto del male a Zuleila e inizia a gridare a chiamare lei e a chiamare anche lui ma nessuno risponde. Continuano a cercare disperatamente sperando di trovarli e purtroppo con il terrore di trovare qualcosa che non vorrebbero mai vedere. A quel punto Demir sale sulla sua auto è insanguinato ed è disperato completamente fuori di testa e se ne va. Demir è riuscito davvero a stroncare la vita di sua moglie? Questa domanda se la pongono tutti in villa ma anche noi amanti accaniti di questa strepitosa serie turca. Questo però noi lo scopriremo solo nelle prossime anticipazioni. Anche questo video è giunto alla fine lasciate un like e commentate fateci sapere cosa ne pensate. Noi saremo lieti di leggere il vostro pensiero. E non dimenticate di iscrivervi al canale attivando la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulla vostra serie turca preferita e non solo. Un saluto e a presto.